Tra il 1910 e il 1930 il calcio italiano annoverava quattro squadre piemontesi capaci di contendere al Genoa britannico, Juventus, Torino, Inter e Milan, il primato nazionale e erano i clave del cosiddetto quadrilatero, Provercelli, sette scudetti, Casale, uno scudetto, Alessandria e Novara. A queste squadre è dedicato il libro di Luca Rolandi quando vinceva il quadrilatero, 1908-1928, Gli anni d'oro del calcio piemontese, edito da Bradi Polipri di Ivrea, presentato a Palazzo Lascaris. Chi era più grande tra Giovanni Ferrari, Silvio Piola, Luigi Bertolini, i grandi protagonisti del quadrilatero, ancora Matteia, Caligari, Smonzeglio? Se devo dire, Silvio Piola è il più noto, il più conosciuto, anche il più ricordato, ma Giovanni Ferrari è stato veramente un grandissimo del calcio italiano, forse un personaggio che andrebbe ricordato e la sua figura, oltre che il suo stile e la sua capacità tecnica, raccontata ai giovani. Luca Rolandi ci racconta in modo impeccabile la storia del quadrilatero, quando il calcio era un sogno, era un mito, era fantasia, era letteratura. E i lavori così sono importanti, perché il calcio non è soltanto un fenomeno sportivo, ma è un fenomeno poetico, un fenomeno sociale e un fenomeno storico.